L'Europa che ci ha garantito 70 anni di pace, che deve proteggerci anche nei momenti della sfida globale, deve ritornare alla politica. L'errore commesso in questi anni che ha allontanato i cittadini è stato proprio quello di rinunciare a svolgere un ruolo politico e di aver perso la capacità di coinvolgere uomini politici ad essere parte del progetto europeo. Ieri ho rilasciato un'intervista al Sole 24 Ore dove dicevo che a mio giudizio la Commissione Europea doveva essere formata da tutti i leader, non bisognava mandare a fare i commissari europei personaggi politici non di primo piano, proprio perché il potere esecutivo non può essere gestito da chi non ha la forza di imporre alla macchina burocratica una linea politica. Io sono stato per tanti anni commissario europeo e la cosa che più di ogni altra mi infastidiva è quando prima di ogni riunione mi arrivava dalla direzione generale la cartellina con scritto sopra line to take, linea da tenere, veramente gli risposi la linea da tenere la dico io, non è che lo dice la macchina burocratica, per la quale nutro rispetto per le capacità, per carità, ma la macchina burocratica deve applicare le decisioni politiche, però la polpa di ciò che è accaduto, di ciò che accade troppo spesso a causa di una perdita della presenza della politica ha fatto allontanare i cittadini dall'istituzione, perché la burocrazia, lo diceva anche nell'incontro di Roma dove abbiamo presentato il vostro manifesto, applica le regole in maniera autoreferenziale, l'obiettivo è quello di far rispettare le regole qualunque se siano perché la verità è quella che dice l'apparato burocratico, la macchina mi sembra un po' di stile sovietico, non so chi l'ha inventata, però l'apparato della Commissione Europea ha un po' dal Ministero della vecchia Unione Sovietica, e invece deve essere la politica a riappropriarsi del gusto di fare delle scelte che dimostrino il coraggio dell'Europa e l'importanza dell'Europa, purtroppo abbiamo politici anche in Italia che guardano soltanto alla vicenda nazionale, senza rendersi conto che la maggior parte delle decisioni che vengono prese, vengono prese a bussero, quindi fatto rinunciando ad una presenza che garantisca un'Europa equilibrata con l'Italia che possa essere il protagonista di queste decisioni. Quando vedo anche in questa campagna elettorale molti leader che guidano le liste dei loro partiti, sapendo già che non andranno a fare i parlamentari europei, penso che si tratta di una grande presa in giro, è come se io mi andassi a fare l'esame di maturità all'ultimo anno di liceo, un mio cugino e poi io passo perché lui ha studiato, perché lui prende voti più alti. Non va bene così, non va bene votare per un leader e poi trovarti la riserva, non sempre di alto livello che va a fare il parlamentare al posto del leader.